Le opportunità, le sfide culturali ed imprenditoriali che i paesi della riva sud del Mediterraneo, la Cina e l'Asia in generale, offrono alle imprese e alla cultura del Made in Italy. Se ne è parlato a Palazzo Laskaris durante il convegno 2016, Opportunità tra Occidente ed Oriente, organizzato dall'Associazione Culturale Italia Abroad.